Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale! In questo video vi mostro come rimuovere tutti i punti neri. Prendete un contenitore e versate un cucchiaino d'acqua. Dopodiché versate un cucchiaio di bicarbonato di sodio ed un cucchiaio di dentifricio. Iniziate a mescolare e se vi rendete conto che la consistenza è troppo solida, aggiungete un cucchiaino d'acqua. Quando avrete raggiunto questa consistenza, il composto sarà pronto. Per aprire i vostri pori, prendete un asciugamano pulito e immergetelo nell'acqua calda. Tenetelo premuto nella parte dove volete rimuovere i punti neri per un paio di minuti. Dopo aver aperto i vostri pori, prendete il composto e iniziate a spalmarlo nella parte desiderata. Agite velocemente in modo da non far richiudere i pori. Ora prendete uno spazzolino pulito e iniziate a passarlo sopra la parte in cui avete applicato il composto. Questo rimuoverà la maggior parte dei vostri punti neri. Dopodiché riprendete l'asciugamano con l'acqua calda e tenetelo ancora premuto per poter fare in modo che i pori rimangano aperti. Potete inoltre spremere l'eccesso e i vostri punti neri verranno via molto facilmente dopo questa maschera. Questi sono alcuni dei miei punti neri, va un po' schifo. Spero che il tutto sia.